ci troviamo a cervaro finalmente finalmente tutti a cervaro però piccolo cambio di cappello oggi puntata dedicata agli amici di made in italy bikers un canale di facebook con cui è nata da subito una grossa simpatia e i ragazzi mi danno grande supporto mi raccomando tutti quanti sul canale e mettete un bel mi piace alla pagina giornata quella di oggi dedicata anche all'inizio dei test sul campo delle protezioni di acerbis quindi seguitemi sul canale perché a breve farò un video su quelli che sono prodotti made in italy firmati acerbis in merito a protezioni per bici e anche per moto direi in base a quelli che sono i livelli di sicurezza e di protezione che noi desideriamo testeremo para schiena e pettorina ginocchiere e le gomitiere versione leggera e in più testeremo le ginocchiere in tessuto la signora era interessante vediamo un po con quale prodotto riusciamo ad andar meglio ed ecco frankie è passato un po di tempo dalla promessa che ci siamo fatti a santo stefano gli amici del cervaro qua è bellissimo io venite tutti quanti però il del bar e il cervaro se vi piace lo scattato venite a cercare non andate a cervaro mi raccomando l'importante è un po di conozione al canale per tutto vi siete iscriviti tutti quanti che se non vi iscrivete non mettete like non ha senso nemmeno guarda il video e poi supportiamo un posto sud italia perché non troviamo niente di meno di altre bellissime cose alè alè e saliamo e ci facciamo purgatori purgatori o purgatori ci facciamo il purgatorio purgatorio su una meglio frenca attacca il rampino no Furgato ha riportato a casa Certo non è il massimo Fatta come prima dietro Francesco A vista però Biagione si è entusiasmato Lo sentivo urlare dietro E non erano urla di dolore Ma di gioia Andiamo alla prossima Volpe Su Volpe Vale Madonna quanto trocci Asai eh Mamma Dai Giofra Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'uscita di oggi il buon Frank ci sta facendo divertire. Apprezziamo anche la segnaletica. I ragazzi di Cervaro fanno sempre un gran lavoro. Veniamo tutti a Cervaro che i ragazzi meritano un po' di sostegno. All'uscita di Cervaro fanno sempre un po' di sostegno. All'uscita di Cervaro. Mamma questo da-da-da. Cervaro fanno sempre un po' di sostegno. Sulle punte. Cervaro fanno sempre un po' di sostegno. Signori, la giostra di Cervaro! Salite sulla giostra! Ce n'è per tutti! Salite sulla giostra di Cervaro! Ce n'è per tutti! Parco giochi Cervaro! Ed è andata anche l'ultimo giro! Divertimento garantito sulla giostra Cervaro! Acquistate tutti il gettone Cervaro e venite a divertirmi! Che ce n'è per tutti eh! Buongiorno ragazzi Cervaro! Cervaro! Il Presidente va di birra Maxi! Oggi ci siamo veramente divertiti eh! Francesco che ci ha fatto da Cicerone ci ha fatto divertiti! Ci dovete fare una promessa! Voi avete un bel parco giochi qui! Dovete un po' lavorare per inserirvi in qualche circuito gare! Perché il territorio lo merita e non poco eh! Facciamo al 100% qui! Dai ripeto io lo volevo fare già quest'anno! Iscriviamoci alle gare! Facciamo le gare! Anche perché si beve dopo! E soprattutto! Anto voglio una maglia del Cervaro che mi piace! Appena ritorni! Moi la devo da pure a Flavio veramente! Quella di Flavio la prendo io! Grande! Grazie! Grazie a voi veramente! Più gente viene e più siamo contenti! Ci siamo divertiti eh! Ci siamo divertiti! Più gente viene sul lato! Dai prepariamoci! Mettiamo! Pettorina! Che ha fatto il suo dovere eh! Mi piace! Ottima prima impressione!